Il 17, 18 e 19 aprile si vota per elezioni dell'RS1 alla pubblica amministrazione. Le liste della CGL, i suoi candidati, quelli che saranno i futuri delegati, rappresenteranno tutti e non alcuni. Saranno portatori di interessi collettivi, cercheranno di tutelare i cittadini, di migliorare la pubblica amministrazione. Saranno partecipi nelle trattative, nelle assemblee per tutelare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo tanti anni di blocco della contrattazione, dopo anni in cui, a seguito delle leggi di Brunetta, si diceva che le RSU dovevano essere solo informate, diventeranno in qualche modo portatori di interesse sia dei lavoratori che dei cittadini. Per questo, per tutti, per i cittadini, per le lavoratrici, per i lavoratori, del pubblico e del privato, vota e fai votare FPCGL. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.